55 i nuovi casi di coronavirus accertati nella provincia di Prato nelle ultime 24 ore. Di questi, 15 sono cittadini cinesi. Il totale delle positività raggiunge quota 11.288. Come negli ultimi giorni, anche oggi nessun decesso e dunque il numero delle vittime resta fermo a 286. Sono i numeri contenuti nel bollettino diffuso dalla regione oggi per fare il punto sull'epidemia in Toscana. In tutta la regione si contano 594 nuove positività, totale 133.343 e 26 morti, 12 uomini e 14 donne con un'età media di 83 anni. Dall'inizio dell'emergenza sanitaria, in Toscana sono decedute 4.172 persone. I 594 nuovi casi sono emersi dall'analisi di circa 17.000 tamponi tra molecolari e rapidi. Escludendo i controlli, sono 7.345 le persone al primo test. L'incidenza di positività si è attestata all'8,1%. Continua a scendere il numero dei pazienti ricoverati. Oggi sono 13 in meno di ieri e cioè 659 nei reparti Covid e 100 nelle terapie intensive. Crescono le guarigioni, 240 tra virali e cliniche, quelle dichiarate nelle ultime 24 ore. Oltre 120.000 le persone che sono guarite dal coronavirus in Toscana. Alle 12 di oggi si sono contate 6.841 somministrazioni di vaccino in più. Il bilancio delle vaccinazioni sale a 107.498. Ogni 100.000 toscani sono 2.888 quelli vaccinati, risultato che colloca la Toscana al quarto posto in Italia per dosi somministrate rispetto a quelle consegnate.